Ciao! Oggi farò una frittata per il mio amico Gianaldo. Per prima cosa prendiamo gli ingredienti. E' tutto nella nostra cassetta da lavoro. Sale, formaggio, olio, spinaci, uova, cipolle. Iniziamo a cuocere gli spinaci. Ora tagliamo le cipolle. Il trucco è bagnare il coltello e indossare gli occhiali per il taglio delle cipolle. Slipp today, yeah. I never thought this day could end. I never thought tonight could ever be. Ah, sono malissimo. Il riuscione a morire. Ah, il riuscione a peccarli che cipolle. Ah. 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 andiamo a registrare e ora aggiungiamo le uova ora accendiamo il forno è arrivato il momento di mettere la nostra frittata nella teglia che può andare in forno con una forchetta leghiamo forma e ora mettiamo in forno la frittata la lasciamo per circa 30 minuti la 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.